partite in leggero ritardo Fresh Con in vantaggio si porta Carpe Diem nei confronti di Orange Intense quindi Cry Over Me con all'interno Galaxy segue Cavari, Locomotore e Fresh Con Cavalli ora lungo la curva con Carpe Diem che prosegue in vantaggio in seguito da Orange Intense poi Galaxy e Cry Over Me Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con in vantaggio Carpe Diem Orange Intense si propone al suo esterno dietro i due Galaxy con più all'esterno Cry Over Me siamo a 500 dal palo con Carpe Diem all'osteccato attaccato a fondo da Orange Intense al cui esterno cerca di progredire anche Cry Over Me Carpe Diem all'interno sta reagendo bene a Orange Intense e i due sono in lotta nei confronti di Cry Over Me nel tratto conclusivo Orange Intense attacca a fondo Carpe Diem e passa di forza davanti allo stesso Carpe Diem poi Cry Over Me al quarto posto Galaxy andiamo a rivedere le immagini dell'ultima corsa di Napoli con il numero 7 Orange Intense Luca Maniezzi scuderia Chimax a bersaglio al posto d'onore il numero 5 Carpe Diem al terzo il numero 1 di Cry Over Me quindi l'arrivo probabile ufficioso di questa settima corsa di Napoli è 7-5-1 a risentirci per il prossimo convegno di galoppo mercoledì prossimo grazie a tutti